Amici sportivi bentornati alla Cisporta, partiamo subito dalle decisioni del collegio di garanzia che ha respinto il ricorso del Seregno confermando il format di Lega Pro a 54 squadre, nessun rinvio quindi si parte domenica anche se la Vigor resta in attesa. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Seregno che chiedeva la riammissione al campionato di Lega Pro passando quindi dalle attuali 54 squadre a 60. La terza serie nazionale resta così com'è, una vittoria per la FIGC, già lunedì Carlo Tavecchio aveva ribadito che il format dell'ex Serie C non sarebbe cambiato, sconfitto anche il sindacato dei calciatori che al pari del Seregno aveva chiesto l'aumento d'ufficio a 60 club onde evitare parecchi disoccupati, nessuna violazione insomma, il comportamento dei vertici federali in tema di ripescaggi è stato corretto. Il campionato può regolarmente partire nel prossimo weekend con i suoi tre gironi da 18 squadre, una decisione quella del collegio presieduto dall'ex ministro Frattini arrivata al termine di una giornata lunghissima. Come prevedibile non c'è stato il tempo per discutere dei ricorsi presentati da Torres e Vigor Lamezia contro la sentenza della Corte federale d'appello che ha spedito le due società in Serie D. E adesso come dovrà comportarsi la Vigor Lamezia? Confermato il rinvio della gara di Serie D con la Frattese si attendono ulteriori sviluppi. E adesso? Cosa accadrà adesso dopo le decisioni del collegio di garanzia in merito alle questioni legate al format di Lega Pro? Una cosa è sicura, la terza serie resta 54 squadre ed i campionati partiranno domenica. Non presa in considerazione al momento la richiesta della Vigor Lamezia di rinviare i tornei in via cautelare, il club biancoverde sperava che il collegio di garanzia si pronunciasse già ieri sul ricorso presentato avverso l'esclusione dalla Lega Pro. Così non è stato e quella che doveva essere la giornata delle decisioni definitive si è trasformata in un'altra giornata interlocutoria in vista dell'udienza al CONI che dovrebbe celebrarsi entro il 10 settembre. Insomma, qualche punto interrogativo resta ma la Lega Pro parte. Rimane a riposo però il Messina. Al pari delle altre squadre ripescate o retrocesse d'ufficio, la formazione peloritana non giocherà nel primo turno. La gara contro il Benevento, formazione che avrebbe dovuto affrontare la Vigor, è stata posticipata. Rinviata in via precauzionale anche la sfida in Serie D della squadra Lametina, opposta da calendario alla frattese. E allora, andiamo a fare un po' di ordine sia in Lega Pro ma anche in Serie D andando a leggere quelle che saranno le prime giornate. Si gioca domenica alle 15, questa è la prima giornata del girone C di Lega Pro. Benevento Messina, come sappiamo, è stata posticipata. Poi Catanzaro e Casertana. Cosenza contro Martina Franca. Ischia Isolaverde, Lupa Castelli Romani. Lecce, Andria che si giocherà invece di sera alle 20.30. Matera, Acragas. Melfi, Juve Stabia in posticipo sempre di domenica ma alle 17.30. E poi posticipata Monopoli Catania ma anche Paganese e Foggia che invece si anticiperà a sabato alle 20.30. Andiamo a vedere invece la prima giornata di Serie D. Dicevamo in attesa di capire qualcosa di più della Vigor. Vigor la mezzia frattese che è stata rinviata ma esordio in trasferta per il nuovo Reggio Calabria, la nuova regina insomma come preferite ad Aversa Normanna. E poi Cavesse e Città di Gragnano, due torri noto, Leonfortese e Città di Scordia, Sarnese e Agropoli. Roccella Palmese, ben due i derby previsti, quello con Roccella Palmese ma anche tra Rende e Vibonese. E poi chiude il quadro la sfida tra Marsala e Siracusa. In questo momento però mi arriva una notizia dalla nostra redazione ultima ora che riguarda la Vigor. è stato rigettato il ricorso cautelare che riguarda la Vigor, la mezzia, finalizzato a contestare la posizione del Messina. Riammesso, come sappiamo, in Lega Pro al posto proprio dei calabresi e a richiedere il blocco dei campionati. Ma non è stata scritta la parola fine sulla vicenda perché il Collegio dello Sport dovrà adesso pronunciarsi nel merito del ricorso presentato. Ed una data non è stata ancora fissata. Si attendono quindi le mosse dell'avvocato campano Edoardo Chiacchio che assiste proprio la Vigor, la mezzia. Intanto, come abbiamo visto, il campionato di Lega Pro, come quello di Serie D, partirà domenica a partire dalle 15. Bene così, con questo è davvero tutto. Non ci sono altre notizie. Grazie per averci preferito. A voi tutti un buon proseguimento. D'Alessio e buon passo. Grazie a tutti.